Allora cari amici abbiamo qui una bellissima ragazza che io ho la fortuna di conoscere seppur virtualmente da tanto tempo la intervistai astrologicamente proprio agli esordi del mio blog si chiama Viviana Dimitri ed è la coordinatrice editoriale della casa editrice Armenia quella che io cito spesso come i libri blu di cui ha tutta la collezione eh libri storici che hanno fatto la storia vera della cultura astrologica in Italia eh Viviana ciao benvenuta grazie ciao ciao a tutti buongiorno dove stai? Bene grazie tutto bene mi fa morire senti Viviana come hai cominciato a lavorare in Armenia come ci sei arrivata in questo mondo fatto un po' di stelle? Guarda io ho iniziato con Armenia ormai 18 anni fa e iniziai proprio con l'editore storico che era Giovanni Armenia e io ero giovanissimo 24 anni per cui era per me il primo passo nell'editoria e il primo passo soprattutto in questo mondo così particolare e niente quindi lui mi ha insegnato mi ha insegnato mi ha insegnato il lavoro mi ha insegnato come scegliere i libri mi ha insegnato veramente tante tante cose devo dire assolutamente sì immagino beh è stato un imprenditore fantastico e lo dico perché non lo sapesse eh senza eh il signore Armenia eh sarebbe stato difficilissimo per la mia generazione avere dei testi validi a disposizione sì parliamo senza di cui non sarebbe qui esatto e parliamo di una casa editrice che ormai ha oltre 50 anni eh sì quindi insomma è un mezzo secolo di storia senti cosa ti ha insegnato nello scegliere i libri sono molto curiosa eh allora la prima cosa è l'apertura mentale che è una cosa fondamentale che bisogna avere nel nostro lavoro per cui una mente a 360 gradi e certo quindi accettare idee diverse dalle nostre una visione diversa dalla nostra realtà e questa è una cosa fondamentale per una creditrice comunque di stampo esoterico come la nostra e che tratta veramente tantissimi argomenti e abbiamo un pubblico molto molto presente che conosce molto bene questi argomenti per cui siamo anche molto attenti alla selezione perché come sapete nel nostro mondo eh diciamo che bisogna anche fare una bella selezione sugli argomenti trattati e questa diciamo che è una delle cose fondamentali eh noi come casa editrice pubblichiamo sia autori italiani ma per lo più compriamo tanto dall'estero perché sono argomenti che diciamo che all'estero sono più popolari anche c'è più materiale per cui noi tendenzialmente compriamo da case editrici estere facciamo una selezione e poi traduciamo per il mercato italiano ok di tradurre certo immagino eh come sta andando il mercato editoriale astrologico ti voglio fare questa domanda per una ragione eh io sono diciamo come astrologa sul web sono arrivata nel 2016 sì e eh dal primo corso con sette persone la domenica mattina ancora me lo ricordo chiaramente sono passata ad avere un'accademia in questi otto anni io ho notato un crescendo di domanda non solo formativa eh come consulti come dinamiche anche relazionali ho intervistato tantissimi astrologi ho scoperto che sono veramente tantissimi sono due anni che intervisto e non sono assolutamente neanche vicino alla fine no? quindi vedo che c'è tanta richiesta c'è un mondo che è finalmente di nuovo in espansione in evoluzione eh anche voi avete notato che c'è un risveglio sì devo dire che negli ultimi diciamo particolarmente dal periodo post covid direi che c'è stata una nuova attenzione sia per l'astrologia che per il mercato esoterico generale eh per quanto riguarda l'astrologia abbiamo notato tantissima attenzione all'estero perché ci sono tantissimi editori all'estero che hanno ricominciato o cominciato a pubblicare astrologia sul mercato italiano i numeri non sono proprio eccezionali però dobbiamo dire che eh la linea ha ricominciato a vendere abbastanza bene per cui sicuramente c'è un'attenzione particolare sì 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 sta tornando vero un po' la la voglia di eh conoscere queste discipline manca nuove perché io ho notato una differenza con i nuovi autori benissimo e in generale ehm come scegli nel senso oltre il tuo fiuto che in tutti questi 18 anni avrai affinato ovviamente no? ma quali sono gli argomenti più richiesti dal grande pubblico astrologico? a parte le le sciocchezze eh tipo l'oroscopo dell'anno di cui noi non ci occupiamo però in generale quali sono gli argomenti che tu vedi più richiesti? allora sicuramente i classici perché noi abbiamo la nostra linea di astrologia la nostra collana biblioteca di astrologia vanta veramente grandi nomi quindi ci hanno chiesto spesso di ristampare grandi classici cosa che abbiamo fatto cambiando un filo anche lo stile delle copertine rendendo usando il vecchio stile ma rendendole un po' più fresche per cui abbiamo ristampato i classici questi ce li chiedono sempre molto parliamo anche di Ciro Di Scepolo ovviamente è un nostro autore da sempre e viene molto richiesto eh ultimamente però abbiamo anche deciso di pubblicare cose un po' più giovani un po' più fresche anche un po' illustrate ad esempio e questo dobbiamo dire che funziona perché vengono posizionate meglio anche nelle librerie di catena perché hanno un impatto visivo anche un po' più forte non è la classica saggistica in bianco e nero che comunque riguarda un certo tipo di lettore che è più uno studioso di astrologia eh sì chiaro vogliamo ampliare un po' il pubblico per cui ad esempio qui ho un esempio di questi nuovi libri che abbiamo fatto qua sono due, sono una collana dei dodici segni zodiacali sono molto freschi, carini, sono tutti illustrati a colori questi qua ad esempio attirano anche un pubblico più giovane che ultimamente è più interessato sia l'astrologia che l'esoterismo oppure ad esempio abbiamo comprato alcuni diciamo libri classici all'estero questo qua ad esempio è molto conosco il libro di astrologia di cui avete veramente bisogno che è un titolo un po' particolare che ci diverte e dall'idea di essere una cosa più simpatica no? sì allora diciamo che va bene per chi si sta avvicinando un po' per la prima volta all'astrologia ed è una guida esaustiva facile da capire che tratta diversi settori, diversi campi, diversi argomenti nel mondo dell'astrologia per cui è un bel librone per le persone che vogliono un po' iniziare ecco certo non per chi è già esperto diciamo che è una cosa un po' diversa ma guarda che allora io chiaramente ho un'accademia e ti dico che la prima cosa che gli alunni mi chiedono è che libro possiamo comprare per cominciare perché sì va bene le lezioni ok però considerando che tu giustamente dici attira il pubblico più giovane ti dirò che io vedo che a studiare astrologia ci si arriva verso i 35 anni prima rimane molto così lo sfizio e la battuta no la cosa più simpatica invece poi con un filo più di maturità capisci quello che è veramente di interesse anche perché è una materia bella corposa cominci con i libri come quelli che hai fatto appena vedere i siti di Akali, le guide base ed è la prima cosa che gli alunni mi chiedono cosa leggo? cosa mi consiglia per cominciare insomma a organizzarmi le idee e ti dirò che c'è da un lato ovviamente una scelta vastissima di testi introduttivi buoni si comincia già a fare un po' più fatica sia perché alcuni astrologi presentano l'astrologia della loro visione quindi o sei già un po' di quella scuola o già insomma aderisci a una certa corrente di pensiero o ti formi già un po' se posso usare questa parola plasmato no? il che non è bene bisognerebbe a mio avviso ecco conosce un testo se vogliamo neutro come indirizzo e poi da lì far partire insomma tutta la propria consapevolezza e senti c'è qualche aneddoto particolare che ti ricordi di questa vita fra i libri di astrologia qualche cosa da cui ti aspettavi molto e magari invece qualche cosa che è nata un po' monca invece poi ti ha dato grandi soddisfazioni quello è questa è una cosa che viviamo tutti in questo settore nel senso che spessissimo ci capita di scegliere dei libri con grandissime aspettative poi magari vendono molto poco oppure pubblicarne altri che è un po' una prova invece poi funzionano moltissimo in realtà ecco nell'astrologia è un po' diverso perché essendo un settore molto particolare andiamo più mirati quindi diciamo che andiamo un po' meno a caso quando parliamo dall'estero sappiamo già che sono libri che hanno grandi vendite ad esempio questo che ti ho appena fatto vedere parliamo di oltre un milione di copie vendute quindi nel momento in cui arriva noi già sappiamo che il potenziale è buono per altri con gli autori italiani appunto abbiamo alcuni libri che sono delle certezze perché l'autore è già molto molto conosciuto con gli autori nuovi invece è sempre un po' un'incertezza però comunque noi ci teniamo anche a provarci a dare spazio anche ai nuovi a voci nuove esattamente a voci nuove per cui sì in realtà nel nostro settore esoterico in generale nel tempo è successo veramente di tutto per cui di tutto raccontaci un aneddoto tipo un libro che tu non gli avessi dato una lira poi è diventato il caso editoriale qualcosa di buco in questo momento è un po' difficile perché veramente è successo molto spesso sia in un senso che nell'altro quello che mi ricordo nella vecchia sede di Armenia che era Milano adesso siamo fuori Milano nella nuova sede c'è stata un'acquisizione dieci anni fa da un nuovo gruppo però mi ricordo una volta che venne un autore con una proposta e ci disse che l'aveva scritta col proprio sangue oddio esattamente quindi diciamo che diciamo che ma non vi ha dato il manoscritto spero esattamente il manoscritto sì per cui dico quando dico che è sempre un po' un mondo particolare per cui siamo anche un po' attenti nella selezione perché ovviamente è un mondo nel quale tante persone sono attratte un po' dallo strano che alle volte è fin troppo strano per cui strano tra le cose diciamo che diciamo che sì insomma sono successe cose anche insomma particolari che ricordiamo anche con un sorriso vabbè certo da uno che arriva col manoscritto col sangue te lo ricordi nessun dubbio così magari ci voleva solo colpire non era vero eh ma però voglio dire un genio dei nostri giorni insomma voglio dire assolutamente se voleva farsi notare ce l'ha riuscito si ti verrà ricordato per sempre eh senti Viviana ascolta ovviamente questa intervista la guarderanno tantissime persone che stanno studiando che immaginano sognano un futuro da astrologi no sono nel corso di formazione magari ho cominciato a lavorare a scrivere a fare i loro primi passi eh per avere la speranza che una propria opera venga pubblicata ti dico da Armenia ma penso che siano regole che valgono per qualunque editore segno no tu che consigli daresti allora prima di tutto io consiglio sempre di andare prima di spedire del materiale di andare sul sito dell'editore che ha sempre una pagina dedicata ai nuovi autori alle proposte leggere esattamente come viene richiesto il materiale e capire se l'editore è giusto per la nostra proposta perché eh a noi arriva una quantità di materiale immensa immensa e ovviamente non abbiamo il tempo di guardare tutto per cui se l'oggetto della proposta è chiaro se il materiale è chiaro e capiamo che può essere un tipo di proposta che va bene per la nostra linea editoriale allora parte la valutazione certo ovviamente io non posso inviare un libro di cucina a un editore che pubblica esoterismo cioè questa è una cosa fondamentale bisogna innanzitutto capire a chi mandiamo il materiale quindi fare la situazione con l'editore stare molto attenti a come viene mandato il materiale quindi noi normalmente chiediamo di inviarci una sinossi del testo un indice una presentazione dell'autore che sono i punti chiave magari il capitolo dopodiché noi possiamo rispondere a tutti per cui normalmente rispondiamo se siamo interessati a una pubblicazione e ci prendiamo almeno 3-4 mesi per una risposta per cui dico sempre anche inutile sollecitare perché purtroppo i tempi sono quelli sono molto lunghi poi noi abbiamo una programmazione lunga nel senso che noi adesso stiamo lavorando sul programma da metà 2025 in poi per cui le tempistiche sono queste per cui il modo in cui viene presentato il materiale ecco questa è una cosa fondamentale chiaro sintetico veramente questa è la prima cosa vi deve venire incontro nel facilitare il lavoro nel senso che se io faccio una mail in 5 minuti ho capito cosa mi stai proponendo chi sei e cosa fai posso eventualmente passare una fase successiva in tempi decisamente più comodi e ristretti sì questo è fondamentale senti vorrei chiederti una cosa parlando intervistando in questi giorni diverse persone mi hanno detto che se un autore si propone che ha già una sua vivida presenza sui social per esempio che scrive post articoli che insomma è conosciuto come content creator sicuramente potrebbe avere presso una casa editrice una sorta di occhio di riguardo nel senso è già una persona che è seguita che scrive cose che altri vogliono leggere anche se è di diverso anche tu mi confermi questa cosa cioè il fatto che una persona abbia un'attività di questo genere per voi potrebbe essere indicativo? sì sì è vero perché ci dà già più una garanzia di vendite diciamo perché se una persona è già seguita sappiamo già che c'è una base di lettori che ben o male ci danno un po' una garanzia di acquisto e poi soprattutto una persona che può anche pubblicizzarsi che ha già i suoi canali ti dico in realtà a me capita spesso anche quando cerco nuovi autori o nuovi libri di guardare Amazon mi capita spesso di trovare autori che si sono autopubblicati vedo che sono seguiti vedo che hanno ottime recensioni eccetera io li contatto per proporre una pubblicazione perché noi ovviamente siamo su un canale diverso noi siamo in libreria per cui può capitare che ci siano nostri autori che hanno iniziato col self publishing e poi sono stati contattati e hanno deciso poi di pubblicare con un editore quindi sì diciamo che se se sono autori che hanno già un loro giro un pubblico è più facile indubbiamente più facile perlomeno sono più visibili eh beh sì insomma diciamo che comunque sono già introdotti nell'ambiente hanno un pubblico consolidato seppur il minimo nei limiti dell'interesse nostro nel senso che ovviamente noi sappiamo bene o male cosa inserire in catalogo per cui non è che per forza perché una persona è nota allora ha un posto nella nella pubblicazione perché noi ovviamente abbiamo dei progetti su quello che più o meno sappiamo che potrebbe funzionare perché vediamo anche il mercato estero per cui magari cerchiamo un libro di astrologia che sia più dedicato non so alla luna per dire dalle fasi lunare eccetera allora cerchiamo più quello certo poi può anche capitare che invece ci arrivi una proposta estremamente interessante una cosa nuova e allora è un altro discorso ancora è chiaro questo sicuramente ecco hai citato il fenomeno del self publishing che comunque devo dire la verità ormai tantissimi autori te lo dico anche per esperienza personale arrivano al punto di dire ok ho terminato il mio libro la mia ricerca il mio studio adesso devo passare per le maglie del lavoro dell'editore aspettare una conferma poi magari mi chiedono di ridurlo di cambiarlo perché queste cose capitano è anche giusto quale volte sì certo ecco e allora tanti tanti che io conosco che sono validissime persone validissimi testi hanno deciso di ricorrere a queste piattaforme tu già molto tempo fa mi dicesti che per voi era anche una sorta di cartina di tornasole no dell'autore del libro perché è chiaro che una buona visibilità e buoni dati di vendita nel self-publishing potrebbero essere indicativi di un successo ulteriore e magari anche perché gli editori diciamo lo fanno anche promozione dei propri libri no poi non accordi con le librerie per la visibilità in vetrina piuttosto che negli espositori cioè c'è tutto un lavoro che voi fate che non è solo la cura del testo ma anche seguire la vita no di questo libro ecco mi sono sempre chiesta perché oggi si tenda non dico ad abusare ma sicuramente a pensare al self-publishing proprio come prima risorsa perché secondo te si è creato così diffusamente questo fenomeno quasi rinunciando perché guarda tutti quelli che io ho conosciuto hanno decisamente rinunciato al tentare la via delle case editrici e si sono automaticamente pubblicati da soli perché mi rendo conto che pubblicare è difficilissimo pubblicare è difficilissimo in più spessissimo ci si trova davanti a editori che non sono esattamente editori perché un editore deve garantire determinate cose quindi il pagamento di una royalty la presenza del libro in libreria eccetera eccetera per cui capita spesso che magari molte persone hanno esperienze un po' negative perché si affidano comunque a persone sbagliate perché poi se non ti possono garantire un pagamento che spetta un autore o una certa presenza in libreria già non è non è il massimo quindi io spesso sento di appunto autori che non si sono trovati molto bene oppure proprio la difficoltà nella pubblicazione e io lo capisco perché effettivamente noi su 50 pubblicazioni all'anno diciamo che nuovi autori di astrologia in questi ultimi anni ne abbiamo avuti veramente pochissimi pochissimi perché comunque è una delle nostre sedici collane e appunto dovete fare una cernita questo ovviamente insomma tanto 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 per cui lì invece è un mercato diverso perché tutti possono autopubblicarsi con spese piuttosto ridotte e molti riescono anche ad avere un buon riscontro economico per cui io lo capisco ma sai guarda ti dirò secondo me le persone che si rivolgono al self publishing non lo fanno per vendere tante copie ma per avere una visibilità cioè il libro arriva a cuore un amico di una carriera no? o come ulteriore contributo alla carriera che poi si fa altrove ecco il libro è un po' l'attacca alla cintura spesso cioè insegno queste cose da vent'anni piuttosto che faccio l'astrologo da quindici ho messo le mie conoscenze e competenze su carta in modo che possiate anche portarlo con voi no? credo che sia più una questione ti ripeto di completezza del proprio percorso che non una attività economica in senso stretto sono finiti i tempi di Balzac che ci campava con quello che scriveva insomma oggi diciamo proprio dei sì a meno che non stai scrivendo Harry Potter che tu diventi miliardario con le tue opere però all'inizio anche lei ha fatto fatica a pubblicare per cui vedi è il percorso comune diciamo che sì e senti una cosa che cosa avete adesso a catalogo ci vuoi parlare un po' di cosa propone a meglio in questo periodo ci sono delle delle testate solide dei libri a cui siete particolarmente affezionati ci vuoi raccontare qualcosa che invita il nostro pubblico ad andare in libreria e a cercarvi allora vabbè allora sicuramente noi abbiamo la nostra la nostra collana principale è magic che è la nostra collana di magia spesso siamo proprio più conosciuti in Italia in questo settore che è magia verde magia bianca quindi sempre solo esclusivamente una magia molto positiva la wicca quindi questo contatto con la natura questa riscoperta di sé spesso come donne è un genere che sta andando moltissimo che abbiamo sempre avuto in catalogo e che ultimamente devo dire che sta dando grandi risultati il volume adesso il nostro bestseller è la strega verde poi abbiamo una collana nota anche di oracoli quindi sono cofanetti con libri più carte molti sono oracoli molti sono tarocchi ok e a tale proposito ci tenevo a far vedere questo che è uno degli ultimi usciti che è tarocchi astrologia è bellissimo è un cofanetto meraviglioso le carte le immagini sono stupende sono due autori italiani è molto particolare perché unisce lo zodiac occidentale con l'orientale e la simbologia degli arcani maggiore è una cosa molto particolare per cui io questo lo consiglio vivamente bellissimo ci vuoi dire i nomi degli autori allora i nomi degli autori sono Davide Americo che è l'autore e Andrea Tommassini che è l'illustratore con loro adesso stiamo facendo anche un nuovo cofanetto sempre di in questo caso oracoli questi invece sono più tarocchi perché sai che i tarocchi hanno un certo numero di carte e gli oracoli possono variare e devo dire che questa collana questi prodotti stanno andando benissimo poi un libro a cui tengo molto è questo grande guida all'astrologia del benessere sì questo è particolare perché unisce praticamente per ogni segno zodiacale all'interno è tutto illustrato in bianco e nero però è molto molto carino anche da regalare quindi per ogni per ogni segno diciamo che unisce dei consigli ad esempio per mangiare sano posizione yoga rimedi naturali pratiche di rilassamento è una cosa un po' simpatica ecco secondo me allora sia tutta la parte magica anche un po' wicca il risveglio del femminile il bosco sacro e tutto ciò che è connesso col benessere quindi floriterapia saliti schusserl il tuo segno come segnale della parte più delicata del tuo corpo quindi come puoi prendertene cura sono degli argomenti che vanno veramente molto per la maggiore quindi da questo punto di vista siete sicuramente sul pezzo come si dice diciamo che veramente gli ultimi anni abbiamo avuto proprio un boom sul mercato questo è in dubbio cioè ci siamo da 50 anni gli ultimi anni sono stati veramente eccezionali poi come sappiamo noi abbiamo tantissime collane quindi noi abbiamo anche appunto questa collana di narrativa fantasy che va sempre molto bene siamo gli editori del Dungeons and Dragons che sono appunto i libri basati sui famosi giochi di ruolo ma parlo di 30 anni e più di catalogo quindi abbiamo prodotti diversi che però a parte appunto la parte di narrativa fantasy rientrano tutti nel settore dell'esoterismo del mind body and spirit dell'astrologia gelologia però appunto alcuni argomenti ultimamente sono particolarmente seguiti ecco la cristallioterapia anche va tantissimo quindi abbiamo tanti libri sui cristalli molto belli ne hai qualcuno a portata di mano a cui sei per questo qui no però abbiamo un libro di un autore italiano che non so se riesco a selezionarlo qua non so vorrei farvi vedere la copertina ma credo di non riuscirci proviamo no non ce la faccio però si chiama cristalloterapia va bene non ci si può sbagliare esatto dunque è un autore italiano il libro è una guida illustrata molto bello un bellissimo manuale anche questo libro ci sta dando molte soddisfazioni molte soddisfazioni e soprattutto la cosa bella appunto che è un autore italiano perché eh che tra i tanti comprati dall'estero ora io mi chiedo una cosa Viviana no l'ho chiesta anche a Davide Mare che dirige Sirio Estrella anche un nostro autore sì eh sì sì lo so infatti per questo mi sono permessa di citarlo e che mi io gli ho chiesto ma tutto molto bello finché noi prendiamo dall'estero e portiamo qua ma portare noi all'estero qualcosina di nostro ecco è difficilissimo infatti questa è una cosa che dico ai nostri autori per vari fattori allora prima di tutto eh c'è il limite della traduzione nel senso che i libri vanno tradotti e la traduzione è uno è una delle spese più forti ok quindi noi italiani siamo abituati a tradurre eh a comprare dall'estero perché in questo settore soprattutto c'è molto più materiale all'estero invece all'estero hanno già molto il loro giro i loro autori e non devono tradurre perché nel mercato anglosassone rientra appunto tutto il mondo tutto il mondo sì certo per cui eh spagnoli francesi tendono anche loro a comprare dal mercato anglosassone quindi capita ogni tanto che ci sia uno scambio di diritti italiani francesi tedeschi anche noi lo facciamo ma è molto più raro per cui per quello dico che vendere all'estero è più difficile perché o è proprio un testo particolarissimo che non c'è quindi una cosa assolutamente nuova una teoria nuova una studio nuovo e quindi c'è interesse in una traduzione perché non hanno quel materiale ma se parliamo di cose più generiche loro ne hanno talmente tanto che avere in più un costo di traduzione è una cosa che effettivamente non sempre conviene chiaro chiaro quindi per quello è particolarmente complesso e io dico sempre se poi si vuole vendere all'estero il libro deve essere abbastanza piccolo anche noi quando compriamo se è un libro di 400 pagine sappiamo già che il costo di traduzione sarà altissimo quindi andiamo sempre a comprare libri che non superino le 250 pagine diciamo sempre ovviamente nella selezione di un buon testo è un buon testo però il costo di traduzione incide tantissimo sulla scelta beh su questo probabilmente il futuro delle intelligenze artificiali ci potrebbe aiutare ad abbattere i pochi nì perché non sempre si può usare l'intelligenza artificiale per le traduzioni per cui anche questo è da vedere beh sai comunque l'intelligenza artificiale è appena arrivata no? quindi già se penso io non la uso molto ci faccio soprattutto le immagini per le locandine dei corsi perché io poi a disegnare men che meno e quindi mi dà questa opportunità di selezionare un'immagine parlante sai che da responsabile editoriale saprai che anche l'occhio vuole la sua parte no? la prima cosa ecco mi ci diverto capito utilizzo un po' queste doti però mi è sembrato già che in pochi mesi alla fine un anno ci sia stata un'evoluzione dell'intelligenza artificiale quindi pensiamola da qui a 5-10 anni può darsi che i software di traduzione abbiano raggiunto dei livelli decisamente elevati sì sì perché certo il traduttore comunque è un po' anche scrittore dobbiamo c'è un'interpretazione del testo che è una cosa importante il fatto che sia poi una persona che conosce un certo tipo di argomento è una cosa fondamentale perché sennò si rischiano delle traduzioni terribili eh questo sì sono sono d'accordo c'è chiaro che questo è un ostacolo però sai come astrologa non mi pongo il problema di chi come te giustamente deve prendere un testo e dargli vita eh come astrologa so che noi abbiamo oltre a Ciro Discepolo degli autori che forse meriterebbero di essere conosciuti all'estero certo certo eh e e dispiace la ricorda io per il festival dell'astrologia che organizzo ogni anno ho ho chiesto a tutti gli astrologi stranieri che ho intervistato da Stephen Forrest a De Brolding dove parlo di persone molto note e che sicuramente leggono tutto quello che c'è sono molto attenti no? alle novità agli autori alle scuole di pensiero alla domanda quale astrologo italiano conosci? La risposta è stata in tutti i casi nessuno eh un po' fa male al cuore perché allora da un lato io potrei dirgli che in Italia c'è anche una grandissima tradizione cinquecentesca no? che potrebbe essere conosciuta però al di là di questo abbiamo autori Ciro Discepolo senza altro ma insomma Lisa Morpurgo secondo me Il convitato di Pietro è un testo che sicuramente potrebbe eh dare fonte di riflessione no? ai ai colleghi oltreoceano eh invece noto che c'è una grossa difficoltà a portare le nostre opere là quindi tu mi dici che ovviamente i costi tra volume grosso eh la traduzione la difficoltà poi ovviamente di presentare su un mercato straniero un libro italiano sì perché comunque parliamo di un mercato che è spesso una nicchia in un certo senso per cui ovviamente eh ci sono meno editori insomma ci sono delle complessità sicuramente eh sì lo capisco è un po' un peccato ecco io se posso diciamo fare un augurio all'astrologia italiana ma anche all'editoria italiana è quella di riuscire nei prossimi anni a saltare questo ostacolo ecco eh nel senso mi mi piacerebbe che nel duemilatrentaquattro eh avessimo la pubblicazione con Armenia con altri editori coraggiosi di qualcosa di importante d'italiano per farci conoscere anche perché in Italia manca un ente che tenga rapporti internazionali e presenti gli autori questo è sicuramente una grossa mancanza cioè le cose nascono perché si collabora fra istituti di ricerca e quindi ci si conosce questo sicuramente non vi spiana la strada ma io sono sicura che una casa di interno come la vostra con il giusto supporto legislativo economico perché poi sono tanti aspetti no immagino da mettere insieme possa possa portarlo avanti senti per concludere vorrei chiederti una cosa quel libro su Tarocchi e Astrologia vogliamo farne vedere qualcuno lo puoi aprire il cofanetto glielo facciamo vedere allora perché noi abbiamo concorso sui Tarocchi arcani maggiori e minori e io mi sono divertita a fare alcune immagini di Tarocchi con l'intelligenza artificiale per spiegare per spiegare meglio il significato inevitabilmente il Tarocco parla molto anche con l'immagine no cioè non c'è sono sette di spade so che vuol dire questa cosa qui eh e e ti dico che le mie allievi sono abbastanza impallinate e collezioniste sull'immagine perché la collezione eh immagino tantissimi li collezionano anche gli oracoli eh i Tarocchi si collezionano siccome so che è una cosa che potrà decisamente piacere ecco ma che meraviglia sono bellissimi questo è il veramente belli complimenti all'illustratore sì sì noi siamo veramente molto molto pieni ecco questo esempio è un testo che siamo riusciti a vendere all'estero immagino perché è una cosa appunto molto particolare stiamo parlando proprio di arte e quindi c'è stato c'è stato molto bello e poi dentro c'è anche tutta la spiegazione ah poi c'è il libro che all'interno spiega appunto tutte eh certo come interpretare la ruota stromantica ma molto bello per quello veramente bello molto molto bello guarda diciamo il caso ha voluto che due giorni fa io abbia intervistato Giordano Berti che è il più grande esperto lo conosci benissimo lo dico perché ci ascolta uno dei massimi esperti mondiali di Tarocchi soprattutto storici li colleziona crea mostre e ha una piccola casa editrice dove ristampano queste cose preziosissime e eh ha un occhio insomma per la la cosa nuova la cosa particolare e mi raccontava che eh le riproduzioni dei Tarocchi del Cinquecento in America e in Inghilterra lui le vende tantissimo certo ecco quindi anche tu mi confermi che è una cosa italiana che però all'estero è andata tantissimo bene eh allora io poi metterò a questa intervista l'elenco il collegamento col sito col vostro shop con tutte le collane di libri che proponete qualche mia recensione personale su quelli che mi sono piaciuti di più tanto l'ho letto tutti quindi qualcosa di esaurito che dobbiamo ristampare quindi non farci caso quello sempre fa parte delle umane cose logicamente però no punterò su qualcosa di nuovo perché la collana blu ormai la conosciamo tutti eh la potete pure fare gialla che tanto la conosciamo tutti lo stesso ma punterò su qualcosa più nuovo più fresco come giustamente dici tu eh che io abbia letto così insomma magari le persone vanno anche a scegliere qualcosa di più adatto a loro Viviana ti ringrazio è stato un piacere anche vederti finalmente grazie a te anche per me sì mi sorvito eh invito tutti a collegarsi al sito dell'Armenia anche per un motivo lo dico perché questa è la prima intervista che pubblicherò per la settimana dell'editoria in ordine di scaletta so che può sembrare strano comprare per editore ma in realtà l'editore ti dà una garanzia di aver lavorato su quel testo di averlo scelto quindi sicuramente una pecionata non è può piacere non piacere fa parte di questi personali ma significa innanzitutto aiutare l'editoria che comunque con l'avvento di internet un po' di difficoltà inevitabilmente approvata perché è un linguaggio diverso no? è un modo per aiutare scegliete gli editori andate un po' sul sicuro ecco questo ci tenevo a dirlo proprio come sostegno quello che è appunto differenza dal mondo del self-publishing dove comunque ovviamente non c'è un po' il filtro ecco questo è un po' il nostro lavoro eh certo va va benissimo io spero venendo dalle tue parti nelle fredde brume del nord di riuscire ad offrirti un caffè in quella occasione va bene un bacione Viviana grazie di tutto grazie a chi ci ha ascoltato e buon lavoro grazie